scoppiazz adesso come fanno ci sto con i vetri? veramente? le meteore e? e? tutto quello che ha speso la nana e? 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 i? e? 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 Guardate! Guardate una ricapata all'allio! Guardate! Piano piano! Anno! Piano piano! Téiciauffíztok! Aboard, segaki Century Water! Adada! Tocque Gabriel józmer! Yaah! G Chillantica! Hostelux center eng Tuesdays Mi mucha troupe aquí es que lo fijes. dietro 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 hai spaccato tutto ma in modo da trovare qua dai passati qua ma perché c'ho l'angolo delle sterzate così forte io? giocci passati qua piano piano vorrebbe roma piano piano ce l'ha fatta con me dove viene da andare a scalare? piano piano riesci piano ma sto busingi steve prima ma vuoi buco là dove cazzo cero? dai 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 la telecamera ma vuoi buco? ma vuoi buco non ci stava ci stai blocca mo blocca telecamera ma vuoi non ci blocca non ci stai grazie grazie grazie